Musica Saranno più di 300 i lavoratori socialmente utili gestiti dalla città metropolitana di Napoli che verranno assegnati agli uffici giudiziari, agli istituti scolastici e dai comuni dell'area metropolitana. Sono stati siglati questa mattina, infatti, nella sala Mariella Cirillo, i protocolli d'intesa tra l'ente di Piazza Matteotti e le istituzioni che hanno voluto aderire all'accordo volto a sopperire alle annose carenze di organico dei destinatari. Tra gli enti che hanno aderito finora il Tribunale di Napoli, il nuovo lettore annunziata, il Tribunale dei minorenni, i giudici di pace di Napoli, Casoria, Marigliano e Pomigliano d'Arco, molti comuni di istituti scolastici di ogni ordine e grado che vedranno gli LSU svolgere le mansioni di competenza dell'assegnatario per 20 ore settimanali ciascuno. Noi abbiamo al Tribunale 11 unità di LSU che sono fondamentali per quello che riguarda le attività di archiviazione dei fascicoli, attività che sono normalmente effettuate da commessi che non ci sono in pratica in relazione alla pianta organica. La collaborazione promossa dalla città metropolitana rappresenta un esperimento cosiddetto di buone prassi del quale beneficiano le istituzioni firmatari dell'accordo che resta aperto da altre adesioni e di lavoratori stessi. Ancora una volta si conferma la nostra volontà di utilizzare il personale al meglio in cooperazione con gli altri enti. L'abbiamo fatto in modo assolutamente innovativo e primi in Italia con la Polizia Provinciale che altri volevano sopprimere e noi abbiamo valorizzato mettendoli anche a disposizione dell'autorità giudiziaria, in questo caso LSU pure e qui soprattutto con l'autorità giudiziaria ma anche altri enti come comuni e scuole. Credo un segnale importante della generosità istituzionale del nostro personale e della nostra visione di collaborazione tra istituzioni, ognuno nell'ambito delle sue competenze e della sua autonomia. E tutto questo ha sottolineato De Magistris, malgrado i tagli inferti dal governo e i bilanci degli enti locali. Sì, è così, le risorse economiche che ci dovrebbero dare non sono mai arrivate, né ai comuni, né al comune di Napoli, men che mai alla città metropolitana, riforma epocale iniziata senza risorse. Le risorse umane ce le vogliono tagliare, ricordiamo, la città metropolitana ha meno 30%, noi abbiamo resistito, abbiamo mantenuto, abbiamo valorizzato, stiamo diventando un modello, un modello a prescindere dalle politiche economiche, tributarie e di finanza pubblica che portano a strangolare gli enti di prossimità.